Salve, so che siamo tutti quanti ansiosi di incontrarci 15, 16 e 17 per la nostra riunione di potenziali autori al round table organizzato da Destiny Benji Europe. Purtroppo è una spiacevola notizia, il pastore Don Nori non ha potuto essere presente e quindi abbiamo deciso di annullare l'evento in quanto ha dovuto subire un'operazione chirurgica, grazie a Dio è andata bene, che non poteva rinviare, è stata una cosa all'improvviso. Ma nessuna preoccupazione, siamo più che determinati a incontrarvi e a parlare con voi e a pianificare con voi la pubblicazione di libri in italiano, in inglese, per il mercato italiano e mondiale. Quindi l'appuntamento non è annullato, è solo rinviato se Dio vuole. Abbiamo già pensato di fare a questo evento per il mese di marzo, inizi di marzo. Giù lì ovviamente vi manderemo documentazione e informazione dettagliata sull'evento, ma riorganizzeremo l'incontro per potenziali autori, se Dio vuole, per il mese di marzo 2010. Il pastore Don Nori non vede l'ora di venire e unirsi a noi. Quindi segnate sul vostro calendario il mese di marzo, i primi del mese di marzo, la nuova round table o tavola rotonda degli autori. Dio vi benedica e ricordatevi, chi scrive vive per sempre. Il Signore vi benedica. Grazie.